Ciao, in questo video volevo farti vedere come ho utilizzato la pedaliera TC Electronic Play Acoustic con il segnale di un basso elettrico anziché una chitarra acustica per vedere se il suono era credibile. Devo dire che a me piace molto e andiamo a vedere nei parametri per settarlo al meglio. Innanzitutto bisogna andare in Guitar FX dove ci sono dei parametri da settare, ad esempio il riverbero. Io sul basso comunque, soprattutto utilizzando adesso un fretters, l'ho tenuto un pochettino, senti? Però trovo che sul basso fretters renda bene e non disturbi troppo. Comunque ho settato molto basso. Poi, seconda pagina, il delay. Questo delay non l'ho inserito, però con un pedale d'espressione che si può comprare a parte, io adesso ne avevo uno qua, solo con due, se no quello della TC Electronic ha tre pedali opzionali. Con un tasto, vedi che qua, OFF, con il tastino me lo va a mettere sull'ON. Anche qua, da usare con cautela, però è bello poterlo inserire o togliere semplicemente programmandolo. Poi, c'è una pagina con un chorus, io l'ho tolto perché sul basso il chorus lo eviterei sempre, quindi non lo inserisco assolutamente. Io posso dirlo da qua, se inserirlo o no, OFF oppure ON. E qua scelgo il tipo di chorus, comunque ci sono molti, molti parametri dentro. Poi, andando avanti, il quarto, è una sorta di equalizzazione. Equalizzazione oppure dei simulatori di chitarre. Infatti qua, se vado a selezionare, adesso è in flat, io consiglio di utilizzarlo in flat, comunque si può intervenire low e high gain, ancora modificandolo. Oppure, qua c'è il solo compressore. Il suono comunque è sempre bello, credibile. Andando avanti, nei simulatori che si chiamano Buddy Reds, ce ne sono cinque, simulano, immagino, cinque tipi di chitarra acustica. Il suono non è male, però mi gonfia molto. Senti? Anche questo? Ancora di più. Quindi, io lo utilizzerei comunque sul flat. Mi gestisce, secondo me, in maniera migliore. Ci sono ancora dei parametri da poter inserire in cui si può gestire ancora il compressore oppure un'ulteriore equalizzazione un pochettino più dettagliata, ma io non ho sentito la necessità. Come uscite? Adesso ho messo un'uscita mono. Dal setup... Dal setup posso dire output, mono. Quindi, uscendo con un solo canale, io gestisco sia la voce che il suono del basso. Avrei potuto farlo uscire in due cannon separati, uno per la voce e uno per il basso, in base alle proprie esigenze. Comunque, il suono, il volume è settabile tramite una specie di mixerino interno in cui posso dire il segnale della voce, la sua altezza e il segnale del basso. Ci sono poi tanti altri parametri. Principalmente, comunque, devo dire che sono parametri sulla voce. E quindi, questa rimane una pedaliera che gestisce in maniera veramente molto bella la voce. Il fatto di poter entrare anche con un basso, avere un bel suono, avere dei piccoli effetti come un riverberino o un delay da poter inserire, oppure c'è anche il boost che io ho segnato. Se inserisco questo mi dà un boost di 6 dB. Tolto. Quindi, avesse un assolino o qualcosa, col pedalino posso dare un boost. Ho una uscita, volendo anche dedicata soltanto allo strumento e devo dire che comunque in linea di massima utilizzare un basso può anche andare bene. Anche perché per la voce la pedaliera prende sì il segnale della chitarra o del basso che inserisco per creare delle armonizzazioni. Infatti ci sono varie armonizzazioni che negli effetti vocali si possono scegliere ed inserire. Avendo il suono del basso, è chiaramente più difficile tirare fuori l'armonizzazione. E quindi io la faccio gestire principalmente mettendo poche armonizzazioni. Quindi se le metto, metto l'ottava alto o bassa, così so che non si sbaglia. E poi ha un microfono integrato in cui può prendere il segnale che arriva dall'ambiente. Quindi se suono con una chitarra o all'interno della band, lui utilizza il suo microfono per sentire cosa sta succedendo e mi va a determinare le armonie anche utilizzando questa cosa qua. Quindi mixando un pochettino il suono dello strumento che gli entra insieme a quello dell'ambiente cosa sta succedendo intorno. E questa è una cosa molto molto bella. In conclusione, devo dire che mi ci trovo bene. Adesso lo proverò ad utilizzare live e vediamo cosa succede. Però le premesse sono ottime anche perché è veramente una macchina molto completa e di alta qualità. Gli effetti vocali sono davvero belli. I riverberi, i delay sono molto belli e si possono gestire tramite i preset utilizzando poi questo pedale hit che può mettermi armonia o che posso programmare mettendo io quello che voglio inserire. Il segnale della chitarra o del basso invece viene gestito una volta e vale poi per tutti i preset in cui vado. Quindi i preset sono per la voce mentre il segnale dello strumento rimane uguale. Questo può essere una cosa comunque un piccolo limite perché se avessi voluto fare dei suoni diversi per ogni canzone ad esempio mi sarebbe stato comodo gestire in maniera diversa per ogni preset anche il suono della chitarra o del basso. Invece qua lo gestisco una volta e poi vale per tutti e se voglio modificarlo devo entrare nei parametri singolarmente. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto. Non ho visti altri sulla rete anche perché di solito per i bassisti ci sono molti meno effetti e quindi magari il fatto di spostarci su pedaliere non pensate prettamente per il basso può essere una cosa comunque interessante. Grazie e ci vediamo al prossimo video. Ciao!